Buon pomeriggio e innanzitutto voglio rivolgere a tutti quanti voi che mi seguite in queste dirette Buona Pasqua. Buona Pasqua a voi e le vostre famiglie, ma un pensiero particolare lo voglio rivolgere a una parte del mio collegio elettorale, Lazio, Umbria, Marche e Toscana lo voglio rivolgere a chi sta soffrendo a causa del coronavirus ma sta ancora soffrendo a causa del terremoto che ha devastato intere aree dell'Italia centrale e queste persone ancora non sono riuscite a rientrare a casa loro. Devono affrontare due emergenze, il coronavirus, ricordo che la regione Marche è una delle più colpite da questa pandemia ma ci sono anche altre parti del territorio, penso all'Umbria, penso al nord del Lazio, la provincia di Rieti, ecco tanti tanti italiani sono ancora in una situazione di grande difficoltà. Buona Pasqua a voi, speriamo che i tempi si possano accelerare. Il coronavirus ancora non l'abbiamo sconfitto, le cose vanno veramente un po' meglio, però dobbiamo continuare a rimanere a casa, rispettiamo le regole, insisto rispettiamo le regole perché pensare che si possa ricominciare a vivere come prima adesso sarebbe un errore clamoroso, significherebbe far riesplodere la pandemia e dovremmo stare attenti anche in futuro perché ci potrebbe essere anche un'ondata di ritorno. Quindi grande attenzione, grande prudenza, manteniamo le distanze, laviamoci le mani, attenzione, attenzione, attenzione. Un saluto particolare poi lo voglio rivolgere alle città della mia regione, il Lazio, colpite in modo particolare, città che sono zona rossa, penso alla città di Fondi, penso alla città di Nerola, penso a alcune città della provincia di Rieti. Vi sono vicino, sappiate che tutto ciò che si potrà fare per aiutarvi lo farò. Ma c'è anche, oltre alla crisi sanitaria, c'è anche una crisi economica. Io credo che ci sia una questione fondamentale da risolvere. La liquidità. Non arrivano soldi nelle tasche dei cittadini italiani. Non so se sono arrivate in tutte le città le prime opportunità per le fasce socialmente più deboli, quei famosi 400 milioni, che sono pochi, per i comuni e per comprare generi alimentari. Forse bisognava essere più elastici. E poi c'è il decreto liquidità. Ma ancora il decreto liquidità non è di fatto entrato in vigore, perché serve l'autorizzazione della Commissione europea per potersi rivolgere alla Sace, che è una delle società coinvolte in questa operazione di garanzia da parte dello Stato alle banche per erogare i prestiti alle imprese. Che cosa bisognerebbe fare per migliorare questo decreto che farà arrivare i soldi, chissà, forse fra 100 giorni? Magari io mi auguro che possano arrivare prima, ma temo che i tempi saranno quelli. Oggi il Sole 24 Ore, il giornale economico più importante del nostro Paese, diceva che tre mesi sono troppi. Le imprese non possono aspettare, come non possono aspettare i cittadini. Ma non arrivano i soldi neanche per la Cassa Integrazione, non arrivano i soldi per le partite IVA, i famosi 600 euro, a quelli che non sono parte delle scelte del governo non arriverà nulla, ma non arrivano neanche i soldi alle imprese. Perché se ci vorranno tanti passaggi burocratici, quando arriveranno questi soldi le imprese dovranno già pagare le tasse. Perché? Perché la moratoria per le tasse è stata prolungata soltanto di due mesi. Quindi i soldi che arriveranno verranno utilizzati per pagare le tasse. Questo non va bene. Bisogna prolungare assolutamente la moratoria. Questi soldi che arriveranno alle imprese, prestiti che poi dovranno essere restituiti e i tempi previsti dal decreto sono brevissimi, sei anni, considerando che l'attuale è già passato e non c'è possibilità di rilanciare l'economia. Poi ci sarà l'anno prossimo, poi avranno quattro anni soltanto le imprese per restituire. Qua servono prestiti ponte di 10, 15, 20, 30 anni. Serve insomma mettere le imprese nelle condizioni di poter ripartire. Non bisogna essere avari. È vero che ci sono pochi soldi, ma bisogna fare di tutto, fare di tutto utilizzando tutti gli strumenti. Meno male che la Banca Centrale Europea ha deciso di comprare buoni del tesoro del nostro paese, ha deciso di investire in tutta Europa 1.100 miliardi, io credo che ne servono ancora di più. Bene, ma bisogna che questi soldi vengano utilizzati quanto prima. Troppa burocrazia, troppe scartoffie, troppe autorizzazioni. Noi abbiamo pensato, di Forza Italia, di dar vita, per esempio, appena finita l'emergenza sanitaria. Io mi auguro che le imprese possano riaprire, tutte le attività produttive possono riaprire quanto prima. Certo, bisogna tutelare la salute dei lavoratori, tutelare anche la salute di chi entrerà nei negozi, ma saranno gli scienziati a dirci e poi la politica avrà a decidere la riapertura delle attività. Bene, bisogna ricominciare il prima possibile e noi diciamo che appena c'è la possibilità di ricominciare e serve un piano serio, che chi non vede ancora da parte del governo, hanno deciso di dar vita a un gruppo di lavoro, speriamo, speriamo che faccia bene questo gruppo di lavoro, ma serve dar vita a un vero grande piano casa. Dicono i francesi, quando funziona l'edilizia l'economia va. Un grande piano casa, penso per esempio, e ne parlavo oggi con il sindaco di Cosenza, che è anche un architetto, alla ristrutturazione dei centri storici. Ristrutturare i centri storici della nostra città significa far lavorare tante persone, ma se uno rinnova tutti gli infissi, provocherà un risparmio energetico in ogni casa e la riduzione di emissioni di CO2. Ci sarà meno inquinamento e si spenderà meno in energia per i riscaldamenti. Questo sarebbe una parte del progetto che noi vogliamo proporre. Ce ne sono tanti altri che noi abbiamo voluto sottoporre all'attenzione della maggioranza del governo. Purtroppo ci hanno sempre detto di no. Noi ci siamo seduti al tavolo con la volontà di collaborare, abbiamo risposto alla volontà del Capo dello Stato e ci siamo seduti non per debolezza, non perché siamo rinunciatari, non perché non crediamo nelle nostre idee, non perché non vogliamo fare l'opposizione a questo governo, ma perché in questo momento c'è bisogno di aiutare l'Italia e gli italiani. Non c'è necessità di fare polemiche. Quando c'è una guerra da combattere dobbiamo stringerci tutti attorno alla bandiera. La bandiera non è il governo, la bandiera è la nostra patria e noi stiamo lavorando giorno e notte, ascoltando tutte le categorie produttive, il maggior numero possibile di cittadini, per fornire delle proposte concrete. Il settore del turismo è un altro settore in grande difficoltà e quello che forse subirà più di ogni altro danni dalla crisi del coronavirus. Cosa abbiamo proposto? per invitare gli italiani a trascorrere le vacanze nel nostro paese. La detassazione di tutte le spese fatte durante le vacanze. Vale a dire, chi va in vacanza in Italia può detrarre le spese fatte durante la vacanza dalle tasse. Un modo per aiutare la ripresa del turismo. Abbiamo anche fatto tante proposte per rilanciare l'agricoltura, abbiamo proposto i voucher, abbiamo proposto di mandare a lavorare nei campi coloro che hanno il reddito di cittadinanza e hanno le forze per farlo. Abbiamo proposto di pagare tutti i debiti pregressi che la pubblica amministrazione ha con le imprese. Sono circa 60 miliardi. Non si vogliono pagare tutti, ma almeno 30 miliardi. Significa immettere liquidità sul mercato, permettere alle imprese di pagare i lavoratori e quindi di non licenziare, magari di non chiudere e di non fallire, di poter riaprire perché tante imprese hanno chiuso e rischieranno di riaprire. Queste sono alcune delle cose. Abbiamo detto di aiutare piccoli e medi imprenditori, artigiani, commercianti, partite IVA. Abbiamo insomma presentato un elenco di emendamenti che il governo però non ha voluto accettare. Poi ci hanno detto bene, vogliamo mettere la fiducia, o votate o non votate. Non possiamo votare la fiducia al governo. Noi non stiamo sostenendo il governo, stiamo lavorando per l'Italia. Dopodiché anche ieri il Presidente del Consiglio Conte ha fatto delle dichiarazioni che se io fossi stato Presidente del Consiglio non avrei fatto e così la situazione rischia di degenerare. Noi vogliamo lavorare per il Paese, continueremo a lavorare anche perché governiamo tante regioni e i nostri Presidenti di Regione, quelli di Forza Italia, stanno lavorando tantissimo per aiutare i cittadini, facendo quello che ho detto io prima, immettendo liquidità sul territorio. Il Presidente Cirio, Presidente della Regione Piemonte, sta attraverso il lavoro della Regione aiutando le famiglie più bisognose. La Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, sta aiutando le imprese, facendo arrivare direttamente i soldi alle imprese. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sta aiutando le famiglie più bisognose perché ha dato vita con la sua giunta, con il suo governo regionale, a dei bond sociali. Il Presidente del Molise, Donato Toma, ha dato vita con i fondi della Regione a un finanziamento per il microcredito, cioè aiutare i piccoli piccolissimi commercianti, artigiani, liberi professionisti che sono in difficoltà. Ecco, questo è il modo serio di aiutare, mettere denaro contante nelle mani degli italiani. Noi lo stiamo facendo a livello regionale, proprio per dimostrare che siamo coerenti con quello che diciamo a livello nazionale. Non ci stanno a sentire, ci auguriamo che cambino idea e che ascoltino le parole del Presidente della Repubblica. E poi bisogna aiutare tutti i settori produttivi. Bene, dovremmo anche avere un aiuto da parte dell'Europa. Molti amici su Facebook, su LinkedIn, su Twitter, gli hanno chiesto chiarimenti. Bene, l'Europa ha fatto alcune cose ed è partita in ritardo. L'abbiamo detto in maniera molto chiara, non abbiamo fatto nessuno sconto all'Europa. Però bisogna essere seri. Abbiamo vinto la partita della stabilità, cioè il patto di stabilità è andato in un cantuccio. Non c'è più il patto di stabilità. Non c'è più il tetto per gli aiuti di Stato. La vigilanza della Banca Centrale Europea ha norme più flessibili per le banche. Adesso c'è questo pacchetto che i capi di Stato e di Governo dovranno applicare. Tanti mi hanno insultato, qualcuno ha applaudito perché ti sei venduto. Noi non mi sono mai venduto a nessuno. Ho sempre difeso la stessa bandiera, le stesse idee, gli stessi ideali da quando ho 12 anni. quindi non mi sono venduto a nessuno. Però dico sempre la verità. Il pacchetto che arriva al Consiglio Europeo prevede un'azione della Banca Europea degli investimenti per infrastrutture, un'azione di un programma che si chiama Sure Sicuro destinato al pagamento delle casse integrazioni in Europa. Un altro programma che prende nome dal MES, ma non è il MES, sono i soldi del MES che potranno essere utilizzati per la sanità. Ma sono pochi soldi. Il vero importante nodo da sciogliere è quello del Recovery Fund, cioè del Fondo per la Rinascita. Lì vanno messi i soldi veri, lì vanno messi centinaia e centinaia di miliardi. Come Partito Popolare Europeo noi abbiamo presentato un progetto di investimenti da almeno mille miliardi, ma forse ne servono di più, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, per rilanciare l'economia e vincere la battaglia contro il coronavirus. Io non ho mai detto che sono favorevole al MES. Quando io ero Presidente del Parlamento Europeo sono state fatte delle proposte di cambiamento radicale del MES, sottoporlo al controllo del Parlamento Europeo, per esempio. Ho detto che non bisognava mai firmare il nuovo accordo del MES così come era riformato, perché non andava bene. Ho detto soltanto che rappresento un passo in avanti che si possano utilizzare alcuni soldi del MES per le spese sanitarie. Punto. Senza vincoli, senza vincoli. Quindi non mi sono venduto a nessuno. Ho detto soltanto che in questo momento servono soldi per l'economia. Ma ripeto, la liquidità non viene da lì. La liquidità dovrà venire da questo pacchetto e dovrà mettere dei bond in emissione per poi raccogliere soldi. Ma ripeto, la partita fondamentale la gioca la Banca Centrale Europea. Ecco, queste in breve sono le cose che si devono fare. Io mi auguro che l'Italia abbia la forza e la determinazione di non cedere alle pressioni dell'Olanda e della Germania, ma lavori a favore di una politica europea che sia più solidale. Perché se l'Europa questa volta non è solidale rischia di essere ancora una volta messa in difficoltà dal coronavirus che potrebbe veramente colpire al cuore l'Unione Europea. Io non sono un europeista critico. Mi sono battuto molto prima di altri contro il patto di stabilità. Sono stato il più duro di tutti nel combattere una visione dell'Europa. Ma dico anche che senza Europa noi non abbiamo possibilità di difendere il nostro sistema economico. Le nostre industrie del Nord esportano tutte in Europa. Le macchine tedesche sono realizzate con la componentistica italiana. Il valore per la nostra economia del mercato europeo ammonta a 200 miliardi l'anno. 200 miliardi l'anno. Attenzione! Perché non bisogna confondere ciò che è utile con ciò che sul momento non piace. Ecco perché io dico che bisogna essere seri, credibili e conoscere le cose. E tutti coloro che mi hanno conosciuto quando ero vicepresidente della Commissione Europea da commissario al turismo, al turismo all'industria, prima da commissario ai trasporti e poi da presidente del Parlamento Europeo, ho sempre difeso gli interessi italiani e i risultati non sono mancati. Altro che venduto alla Germania. Io ho aperto e vinto attraverso procedure di infrazione anche di fronte alla Corte di Giustizia, quando ho aperto le procedure di infrazione nei confronti della Germania. Ecco quindi bisogna conoscere le cose prima di parlare. Io le cose credo di conoscere e credo di aver sempre difeso l'interesse nazionale. Sempre, comunque e dovunque. Sono cresciuto in caserma, sono figlio di militare e so che cosa significa onorare, rispettare e amare la bandiera. E la mia regola di vita è stata sempre quella, l'Italia innanzi tutto. L'Italia innanzi tutto. Bene, cari amici, vi auguro ancora buona Pasqua, visto che spesso vi consiglio una lettura, domani è Pasqua, vi consiglio di leggere qualche pagina del Vangelo. Va bene ai credenti, ma anche ai non credenti. Buona Pasqua a tutti.